insomma finalmente ci siamo stavolta col secondo controfilm di natale abbiamo deciso di fare come il cinema vero e quindi di avvisarvi per tempo vabbè insomma non è che siamo un anno prima però siamo ai primi di ottobre già possiamo dirvi che il conte nicolaus il secondo controfilm di natale uscirà sulla rete il 23 di dicembre per vederlo si paga un ingresso virtuale che come l'anno scorso sarà anche un sostegno per il prossimo film parlare dei film è inutile perché o li vedi se no cosa ti serve parlarne come parlare di figa da solo frustrazioni perciò vi dico solo che è una storia sulle nostre cartoline illustrate che scambiamo per ideologie la destra la sinistra l'accoglienza la respingenza la resistenza la fascistenza sono tutti tag ipocriti da tifo sportivo con i quali ci riempiamo il poco cervello che abbiamo sono tag vuoti perché nei fatti siamo altro comunque il film è tratto da fake news vere e tutte documentate avete presente come quelli che sparano una cagata sui social e dopo mettono sotto tutta una serie di link che documentano proprio che una cagata veramente capisci ho voluto fare un film come i film americani nel senso che si vedono belle ragazze che baciano dei vecchi e non vi nascondo che con questo film aspero a diventare uno dei più importanti registi europei a camera fissa però prometto che quando riesco a disincastrare il cavalletto farò anche dei movimenti di macchina non abbiamo usato i droni perché il mio vicino di casa quando vede i droni gli spara quindi non possiamo usarli tra me la marta cortellazzo biel la marta dalla via abbiamo interpretato più di 50 personaggi alcuni li abbiamo fatti benissimo alcuni benino io ne ho fatto anche qualcuno de merda proprio ma erano personaggi che si meritavano di essere interpretati così nello scritto del post che vedrete qua sopra qua sotto de fianco insomma da qualche parte lo metteranno troverete il link a produzioni dal basso dove potete prenotare il film e poi potrete vederlo dal 23 forever 23 dicembre ovviamente sì perché c'è anche una scadenza che è il 22 dicembre fino al 22 dicembre puoi prenotare il film e il giorno dopo il film esce ma il 22 chiudiamo le porte basta chi c'è c'è invece per gli abbonati al circolo balasso non si dovrà pagare niente in più a qualunque categoria appartegnate che siate poveracci polleggiati o magnaschei troverete il film in abbonamento forever da qua a dicembre usciranno interviste copertine patinate con la patina da scarpe proprio illustrazioni che vi parleranno del film ne parleranno tutti tranne il gazzettino ma tanto a cosa serve parlarne pensate che ho letto una critica al film qui rido io credo che sia il titolo quello di martone qui rido io c'era scritto che era bellissimo sono andato a vederlo cazzo era bellissimo davvero vedi che a volte perfino i critici ci azzeccano però vederlo al cinema con lo schermo grande è una vera figata niente e conte nicolaos non può permetterselo comunque durerà un'ora e mezza forse di più ma tanto cosa avete da fare basta non ho altro da dirvi alla prossima tuo tu tu